Allora, dimmi se hai qualche problema Come su Prime Video? Ah, se su Prime Video la vedo, ma non credo, no Ciao ragazzi, come va? Sto bene? Bene, bene Stavo per capire se potevo vedere la partita, perché E stasera c'è il campionato, cioè l'Inter e un'altra, adesso non mi ricordo Voi che squadra ti fate? Juve, davvero Ah, Juve? La Juve è domani, invece, mi sembra il gioco Io per della Juve, chi ho preso? No, ma mi sa che non ho preso, no, perché ho fatto una strategia io Visto che il campionato, cioè il mercato finisce l'uno di settembre Ci sono ancora, questa partita è la prossima, ad agosto Ho fatto una squadra per questa giornata Quindi mi sono preso tipo Abram, che ha Roma, non so, una partita facile Poi ho preso Lukaku, che oggi Inter, anche nella partita, non so, Lecce Non so che cazzo giochiamo, comunque un'altra partita facile E ho preso la terza punta forte che ho preso Ah, ho preso Ossimena, perché domani c'è Napoli anche lì, una squadretta E poi la prossima giornata cambio in base al... Anche perché la Juve con la Fiorentini... No Ah sì, è mia, tutti la facciamo No, ma io sono infognato, su Quanta Calcio mi piace tantissimo Sì, sì, ho messo un montepremi di 100 euro No, noi ne abbiamo mangiato, c'è un po' Eh? C'è un cibo per lui che non ha mangiato Eh, ma anche io devo mangiare ancora Siamo tutti e due, poveretti Non lo so, devo ancora decidere, ma mi arriverà tra un bel po' E puoi dare 5 a lui tanto? No, ragazzi, non posso fare così, mi dispiace Se poi lo do a te, poi vengono tutti Ah, Danco dai soldi, sai che coda che c'ho No, no, non fatemi fare ste robe, per favore Che già è l'ultima cosa che voglio E che iniziano anche a chiedermi soldi Già vengono a fare casino, qui vengono a chiedermi soldi Sì, dai No, vabbè Eh no, ma non me li gioco io No, no, non me li gioco Puttane come va, Danco? A prostitute? Eh no, sono fin da un po' Non ho pensato io, no, no, sono contro E' una pazza che mi vuole Un miracolo è stato Sì, sì Ok, va bene E non so, non so cosa sono Tu vendi No, non fu Vabbè, comunque ragazzi, se continuate così Dovevo chiudere la porta Perché non state dicendo cose che non mi piacciono Senti, che se è un tuo hobby, va bene Comunque, se volete parlare di cose non illegali Altrimenti devo chiudere, grazie Grazie Grazie, facciamo una, Danco Va bene Ciao ragazzi, grazie che siete passati Ciao Allora, dimmi se hai qualche problema Allora, voglio scherzare Allora, io lo so Quando sono dentro ho fatto il video Quando sono fuori, come è? Allora, fai stare qua, d'arco Qua hai pagato tu, qua per stare qua, d'arco Puoi stare lì quanto vuoi Abbiamo già iniziato così Allora, facciamo un ordine adesso su Su Delivero Iniziamo subito molto alla grande Siamo alla follia Eh, così Vabbè, comunque Alla fine vogliono solo un po' di visibilità Non è che vogliono altro Devi cambiare zona Sì, poi quando cambio zona Mi direte che devo cambiare ulteriori zona Siamo alla follia Sì, avanti così all'infinito Dancol, lei sta diventando il mio mentore Su come lavorare col fattore pazienza Grazie a lei mi sento molto più che Elmo Sono contento Sono contento che ci sia questa Questa cosa zen Ormai Sono molto zen Zan Zang Ma no, ma erano anche ragazzi tranquilli Solo che Ho detto Facciamo un po' Magari finiamo qualche clip di YouTube Ovviamente quando si esce fuori Poi sono tutti tranquilli Ovviamente non è successo io Quando esce fuori Che sono il triplo di oro Non perde la tua capacità di coinvolgimento Ovviamente per dare uno dei punti di forza Ma non credo di aver perso Qualcosa, no? Ovviamente quando succede qualcosa Che vogliono fare i fenomeni Devo Comunque intervenire Come ho fatto Ah, sono tornati Poi Extra Bayon Bakon No, no No, no No, no No, no No, no 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 No